La mano che ha incendiato i lettini del senza tetto al mercatone, non è di un povero ma dei caporali che sfruttano i disperati. È più di un sospetto quello che inquieta il direttore della Caritas Carlo Mele. Agli organi inquirenti il compito di indagare. Non è il primo episodio del genere verificatosi in città, ribadisce Mele, ricordando il rogo di Giaciglia, avvenuto mesi fa nei locali della struttura sportiva abbandonata di via Marelle e Silvati. Preoccupato perché in una piccola città come la nostra questi episodi ti fanno un po' pensare. Perché? Perché gente che cerca un riparo, un ricovero, cioè viene cacciata in questo modo. Sicuramente c'è un progetto, c'è qualcosa. Io non voglio pensare ad atti di criminalità che cercano soprattutto di sfruttare anche questo fenomeno che è in forte crescita. Questo è gravissimo. Forse bisognerebbe un po' indagare che cosa sta succedendo in questa città. Il direttore della Caritas è in attesa che si concretizzi un giorno il progetto di restyling del mercatone. Considerando l'indisponibilità per il sovraffollamento della casa e della fratellanza, Monsignor Forte propone al Comune di attrezzare i box dell'ex centro commerciale, a dormitorio per i bisognosi. A me quello che fa specie è che poi il parco Palatucci, il mercatone, tutte queste opere che sono costate veramente milioni di euro, sono abbandonate. Allora forse è una città che ha necessità di recuperare l'interesse su quello che avviene, sulle cose soprattutto sue, perché è solo una pioggia di soldi. No, siamo sempre davanti a questi scenari in cui si piange sempre, non ci sono soldi, non ci sono soldi, e poi si vedono questi sperperi di cui poi nessuno è responsabile. E allora non c'è un interesse. Cioè a noi, forse ai nostri amministratori, non sta a cuore la città. Stanno a cuore forse gli interessi. Allora avere l'attenzione a quelli che sono i bisogni, forse qualche spazio al mercatone legalizzato, come ti dici tu, gestito anche direttamente dal Comune, perché dai servizi sociali che hanno forse questo bisogno impellente di trovare al momento un posto dove allocare le persone, forse sarebbe anche il caso di pensarci.